Dal 15 al 17 marzo si è svolto a Rimini il ventesimo congresso nazionale della società italiana di parodontologia e implantologia, la CDP, dal titolo Appropriatezza e Prognosi, la parodontologia in cabina di regia. L'evento, tenutosi presso il Palacongressi di Rimini e aperto a odontoiatri, igienisti dentali e studenti, è stato ricco di convegni e workshop teorico-interattivi e teorico-pratici, presentati da relatori di fama nazionale e internazionale. La giornata precongressuale si è aperta con una formula ormai consolidata, basata sul modulo formativo dello spazio, a fare da corollario al corso precongressuale. Gli spazi, fin dalla loro introduzione, sono stati pensati per consentire momenti di confronto attivo, permettendo ai partecipanti di vivere l'aggiornamento scientifico e clinico in modo coinvolgente. Il congresso Appropriatezza e Prognosi, la parodontologia in cabina di regia, si è posto l'obiettivo di chiarire, da un punto di vista biologico e clinico, il ruolo della parodontologia in terapia odontoiatrica. Odontoiatri e igienisti dentali hanno condiviso i lavori congressuali della prima giornata, mentre la seconda ha visto due programmi distinti, per meglio rispondere alle esigenze specifiche delle due figure professionali. Il programma di questo congresso è stato anche innovativo nel metodo. Grazie alla formula di comunicazione In Scena Con, è stato infatti dato ampio spazio all'interazione tra coordinatore e relatori, in modo da vivacizzare il confronto e il coinvolgimento della platea. A fianco della Società Italiana di Parodontologia, la rivista Media Partner Infodent, presente all'evento con un proprio stand per presentare il progetto del Digital Dental Day, giornate gratuite sui temi dell'odontoiatria digitale. Nutrita è stata la partecipazione di odontoiatri, igienisti dentali e studenti, felicemente colpiti dall'offerta culturale dell'evento e dagli spazi congressuali gradevoli e funzionali. La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia vi dà appuntamento al prossimo anno per il XIX Congresso Internazionale CDP, che si svolgerà a Rimini dal 21 al 23 marzo 2019.